Eccoci quindi qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video di speciale calciomercato. Prima di iniziare vi volevo chiedere scusa se i due video che ho caricato ieri sono usciti con un volume non particolarmente elevato. Lo dico perché ho letto alcuni commenti sotto di critica, diciamo, perché non si capiva molto quello che dicevo, ma purtroppo per questioni di tempisti che mi sono trovato costretto a farli nel mio ufficio. E visto che comunque si tratta di un qualcosa di diverso rispetto alla mia macchina, in cui sono tranquillo e posso urlare quanto mi pare, ho parlato con una voce un po' più bassa, ma spero che la maggior parte di voi abbia capito quello che volevo dire. Detto questo ragazzi allora, vi dico ulteriore premessa che dopo questo video uscirà nel pomeriggio un altro video dedicato all'ormai ufficialità di Zappacosta alla Roma, che ho deciso di posticipare per fare spazio inizialmente a questa notizia, a dir poco, incredibile. Sembra infatti che si sia trovato l'accordo definitivo e totale tra il francese Frank Ribéry e la Fiorentina. Il nuovo presidente americano Viola ha quindi deciso di fare una sorpresa, di fare un regale inaspettato ai propri tifosi, prendendo uno dei migliori esterni di tutta la storia del calcio. Allora, sicuramente dopo aver fatto queste affermazioni molti mi scriverete Emma è vecchio, Emma è logoro e non ci sta più, è 36 anni, apriamo l'astenotrofio, eccetera, eccetera. Questi sono i principali commenti che si stanno leggendo di tifosi, ovviamente non della Fiorentina. Io però mi schiero a favore della squadra Viola per diversi motivi che vi elencherò in questo video. Primo fra tutti, questione di marketing. Sappiamo che tutti quanti che gli americani sono un po' folcloristici, ecco, quindi voglio l'intento del presidente della Fiorentina fin da subito era di dare risalto e di far risorgere una squadra che veniva da una delle stagioni peggiori della propria storia. E sicuramente è un colpo che a livello di marketing è importantissimo, perché un giocatore come Ribéry non si vedeva da tanti anni da quelle parti. E sicuramente anche solo per una questione di vendita di maglie, di presenza allo stadio, eccetera, eccetera, è un vantaggio importantissimo per questa squadra, perché molti tifosi verranno allo stadio anche solo per vedere un giocatore importante come Ribéry. Altri invece acquistranno la sua maglietta e credo che a questo punto lo farò anche io, perché sarà veramente assurdo vedere Ribéry con la maglia della Fiorentina, con tutto il rispetto ovviamente. E quindi già solo questo punto di vista c'è un vantaggio per la squadra Viola. Aspetto tecnico. Tutti quanti, come ho appena detto, stanno definendo Ribéry un giocatore finito, un giocatore rotto, un giocatore che non gioca più, eccetera, eccetera. Ma vi inviterei a guardare bene le statistiche dell'ultima stagione del francese. Statistiche che portano a un 25 totale di presenze nella Bundesliga, più altre 7 in Champions League, comunque, per farla breve, in tutto il francese ha totalizzato 38 presenze. E se ovviamente non sono state tutte dal primo minuto, è comunque un numero importante. Un numero seguito anche da 8 gol totali in tutte le competizioni, più 4 assist, che rendono comunque la sua ultima stagione in Bayern Monaco comunque positiva, se consideriamo appunto l'età del giocatore. E visto che la Bundesliga non è certo tra i campionati più facili di tutta Europa, è comunque un rendimento importante. Quindi sotto questo punto di vista non parliamo neanche di un giocatore troppo finito, perché l'età ovviamente c'è, è inutile negarlo. Però in una squadra come la Fiorentina, che ha come obiettivo quello di tornare in Europa, e non è un obiettivo impossibile, soprattutto per come la squadra si è formata, secondo me è un colpo che ci sta tranquillamente. E diciamo appunto, aiuterà la squadra a ricevere maggior calore dal proprio pubblico, perché comunque è un colpo che già solo a livello folcloristico è veramente importante. E nessuno, io per primo, se lo sarebbe aspettato. Tra l'altro mi fa piacere vedere che la Fiorentina si sta rinforzando, perché quando feci il video nei primi di agosto in cui dissi che per me la Fiorentina sarebbe potuta essere, anzi sarà sicuramente una delle sorprese del prossimo campionato, tutti sono venuti a criticarmi, forse perché avevano visto quelle due o tre partite di International Champions Cup e pensavano che da quelle partite si potesse giudicare un intero percorso della stadione successiva. Ma io non lo so, vuoi per un mercato secondo me fatto in maniera intelligente, con gli acquisti di Lirola che è un ottimo difensore, di Boateng che può essere una buonissima riserva, dei vari appunto adesso di Ribery e compagnia bella, comunque la squadra si sta formando anche con il ritorno di... Madonna mia, con il ritorno di Badel, mi era sfuggito il nome, con l'arrivo di Pulgar, comunque la squadra, anche se a livello tecnico non è eccezionale, è fatta da giocatori che conoscono questo campionato e sono di buon livello, quindi per una squadra che appunto deve tornare in Europa, sono acquisti che ci stanno tranquillamente e sicuramente Montella ha avuto in queste settimane più tempo per gestire la propria squadra e farla rendere al meglio, perché ok, non parliamo del miglior allenatore del mondo, ma sicuramente trovate un allenatore che nella situazione della stagione passata sarebbe riuscito a fare tanto meglio di Montella, cioè era veramente difficile perché si capiva fin da tempo che la squadra voleva soltanto raggiungere la salvezza il prima possibile per puntare poi ad altri obiettivi nella stagione successiva. Quindi tornando alla questione Ribéry, sicuramente è un colpo importante e sono curioso di vederlo all'opera, perché comunque parliamo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio europeo, che anche se ovviamente non è nel suo miglior stato di forma, può dire tranquillamente la sua nel campionato italiano, cioè non dobbiamo aspettarci che farà 20 gol, 15 assist e compagnia bella, però già che riesca comunque a dare un contributo a livello anche di esperienza ai propri compagni di squadra, per me è qualcosa di importante, perché parliamo di un campione del mondo, di uno che ha vinto titoli a bizzeffe in Bundesliga e quindi sicuramente potrà dare quell'apporto di esperienza che ad un gruppo serve, soprattutto ad un gruppo che deve rinascere dopo una stagione pessima come quella passata. Quindi io dopo questo acquisto lo sottolineo ancora una volta, lo dissi prima ma lo dico adesso, per me la Fiorentina non solo sarà la sorpresa della stagione, ma riuscirà sicuramente ad andare in Europa. Poi magari non succederà niente, Ribéry farà tre partite, faranno tutti schifo, retrocederanno e buonanotte suonatori, però questa è una mia impressione. Quindi poi vedremo alla fine se riuscirò ad azzeccarci, ma in ogni caso se ciò succederà mi dovete nominare come la persona più competente di tutta YouTube Italia. Comunque a parte le cazzate sarei comunque contento perché vuol dire che una mia intuizione si è rivelata alla fine azzeccata. Detto questo ragazzi allora, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'arrivo ormai ufficiale di Ribéry alla Fiorentina. Mi fa veramente strano dire questa cosa però è la verità veramente. Assurdo ma vero. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque Forza Roma. Ciao ragazzi!